Buonsoir, buonasera a tutti, come state? Grazie di essere venuti, non so se lo chiameremo Emanuele o Carrère, perché lui dà sempre confidenza a tutti nei libri, noi non gli possiamo mai fare un cazzo lui, quindi sarebbe bello chiamarlo Emanuele, ma forse Carrère mantiene il suo fascino primitivo. Io tengo un diario da quando sono adolescente, abbastanza ossessivo, e mi segno tutto, non dico che è orario il diario, però è quotidiano. Appunto del 9 novembre del 2009, nel 2009 io ho 28 anni, tentativo francese, due punti, c'è uno scrittore potenzialmente grande, Emanuele Carrère, chi è questo Emanuele Carrère? Forse assalto, scrivo. Emanuele Carrère non mi diceva assolutamente niente nel 2009, in Italia era un quasi sconosciuto, ma io l'avevo sentito pronunciare in una cena da Niccolò Amaniti, che aveva citato questo nome e cognome a un altro, che non mi ricordo, forse era Emanuele Trevi, comunque lo citò, e Impassant disse, e lui secondo me è un grande scrittore. Ricordo di aver assolutamente perso quel nome, e però a un certo punto, quando è stato il momento di tornare a casa, mi è venuto in mente e me lo sono segnato. Io ho scritto quello appunto del 9 novembre del 2009. 16 novembre 2009, viaggio in Francia, compro in aeroporto questo libro che sta avendo molto successo, Do Trevi che la mia, vita che non sono la mia, in francese. Lo leggo e capisco che siamo davanti a qualcosa di completamente diverso, un po' rispetto alla letteratura italiana, certamente diverso dalla letteratura europea, certamente diversissimo da quelle che erano state le mie pietre, miliari, che era la letteratura americana, la letteratura europea, moderna e passata ancora indietro. 28 dicembre 2009, inizio ad avere voglia di intervistarlo, cioè di fare un assalto, ma io non scrivevo su nessun giornale, qualcosa su Vanity Fair, volevo assolutamente scrivere su un quotidiano, perché mi dava la possibilità di arrivare in qualche modo, però nessuno mi voleva. Avevo esordito con due romanzi, il terzo stava per uscire, ma nessuno mi voleva. E allora, per varie ragioni che non vi dico, mi viene dato un indirizzo da parte di un ginecologo, non mi chiedete come mai frequenti ginecologhi francesi, che mi ha detto che Carrère abitava all'inizio della sua via. Lui non era un ginecologo, era uno che bazzicava, Paris Revue, e poi da altre parti in Francia, e ho questo indirizzo al 10 di Rue de Petit Hotel, numero 10 civico della via dei piccoli hotel, Gare du Nord, decimo arrondismo, Place de la Republique. Me lo segno. Il 10 febbraio del 2010, a 29 anni, compiuti, telefono in Audi perché vengo a sapere che vite che non sono la mia uscirà in Italia. E nessuno lo fa, nessuno lo vuole fare, quindi dico quasi quasi vorrei andarlo a intervistare. Mi dicono, sì vediamo, magari lo farei tu davvero, ma tu scrivi su qualche quotidiano? No, non scrivo su nessun quotidiano. Allora vediamo perché forse usciranno altri quotidiani. Io vengo a sapere, è un nome che non farò qui, di un quotidiano che ha l'intervista su Carrère e che uscirà lui. Quindi io potrei al massimo accontentarmi di una recensione, ma non sono un critico, sono troppo giovane e non ho speranze. Prendo un aereo e vado. Prendo un aereo da solo, vado a Parigi e mi fermo davanti a casa sua. Purtroppo in Francia i citofoni non hanno nome e cognome, hanno il codice per tutelare la privacy, per altre questioni. Mi fermo davanti a casa sua, guardo bene la foto su internet e faccio il romagnolo, cioè aspetto lì. A un certo punto lui esce la mattina presto e va a portare la figlia piccola a scuola. E quindi io con la bambina in mano non posso fare niente. Cioè i rapimenti non si possono fare con i figli vicino. E devo aspettare che torni, ma non torna. Quindi è andato a farsi i cazzi suoi dopo. E lo vedo a sedersi in un bistro, dove poi lui mi porterà anni dopo, a leggere i giornali. E cosa faccio? Vado. Parlo un po' francese e gli spiego chi sono. Sono un ragazzo di 29 anni che non scrive sul Corriere della Sera, ma se lui mi concedesse un'intervista forse potrei iniziare a scrivere sul Corriere della Sera. Lui mi spiega che ha già accordi attraverso l'ufficio stampa per un'altra intervista. Io gli dico però io ho solo 29 anni, tu la darai a persone di potere. E lì Carrère sviluppa la prima persona singolare di cui è capace. Se ne frega del contesto e applica l'io. Dice vieni su in casa. Andiamo in casa, mi porta su, mi fa sedere sul divano e mi dà due ore e mezza di intervista che io avevo preparato su Vite che non sono la mia, dove mi racconta tante cose. Io scrivo il pezzo da sera stessa a Parigi e non so chi mandarlo. Dunque chiamo il Corriere della Sera e gli dico io ho questo pezzo, però sappiate che entro qualche giorno qualcuno uscirà con un'intervista che verranno fagli a Parigi dopo domani. Mando il pezzo e mi scrive il caporedattore della cultura mi fa. Va bene, ti mettiamo in prima pagina. E così io ho iniziato la mia carriera come scrittore culturale sul Corriere della Sera. Sono ancora a Parigi, quindi esce il pezzo mentre sono a Parigi e io lo porto nella buchetta Carrère. E Carrère lo legge, perché legge l'italiano. Lo legge e mi scrive, trova il modo di scrivermi attraverso Senaudi, e mi dice se sei ancora a Parigi vieni che passeggiamo. E facciamo una lunghissima passeggiata, io e lui, dove lui mi racconta che oltre a questo libro ne ha un altro di cui è molto più contento, anche se vite che non sono la mia, rimarrà il suo libro preferito in assoluto tuttora, parlerà di un dissidente russo, che chiamerà Limonov, e di cui è un librone, mi diceva, molto grande ed era molto contento. Carrère oscilla tra l'essere un grandissimo bambino, un grandissimo bambino felice, ed essere un vecchio saggio giapponese di 99 anni. Questa dicotomia che ha, è la stessa dicotomia che ha quando affronta le sue due visioni che ha nella letteratura. Quindi quando mi raccontava di Limonov io ho capito che aveva tra le mani probabilmente il suo capolavoro, che finalmente bilanciavano i due contesti più grandi, la prima persona singolare e la terza persona singolare. L'io e l'egli. Tutta la letteratura careriana si basa, dopo il 2006, sul conflitto tra voler essere lui in prima pagina e il dover dare la pagina agli altri. Se non ci fosse questo conflitto di sgomitamento, non ci sarebbe l'attenzione che fa passare nei libri di Carrère da una prima persona singolare a una terza persona singolare impastata come fosse un'unica persona singolare, che è definita la quarta persona singolare di Carrère. Non è un io, non è un egli, ma è l'intersezione tra le due, impossibile da ricevere. Ci hanno provato tutti, ci ha provato Rachel Kask, per esempio, ci ha provato Wellbeck, in estensione del dominio della lotta, ci hanno provato moltissimo Autofiction, ma la quarta persona singolare è esattamente quello che viene definito il gioco della collana flobertiana, che è questa. Alcuni dei miei studenti che sono qui la conoscono, però immaginate, qui mi ci vuole un archetto, immaginate una collana, questo è il filo, e ovviamente le perle. Nelle collane tradizionali e di letteratura tradizionale il filo non si deve vedere, è quel filo trasparente molto resistente, ciò che viene valorizzato è la perla, e la perla quindi, per non far vedere troppo il filo, è molto unita. Dunque, ciò che noi vediamo generalmente è il sistema gioiellare, cioè dei gioielli. I gioielli in Carrère sono sempre l'egli. Non mi fate sci-er quella roba lì, egli, ella è uguale, ovvero l'oggetto del racconto. In Carrère ciò che si vede nella collana è l'egli, quello che succede anche nella letteratura dove si racconta qualcosa al di fuori dell'io, ma improvvisamente il filo è ugualmente visibile rispetto all'oggetto. E il filo è l'io. Dunque, la collana di Carrère è plurigioiellare. Da una parte abbiamo le perle, dall'altra abbiamo il filo, che deve vedersi quanto le perle. Quindi il filo ha una caratura preziosa esattamente quanto il gioiello. Anzi, è esso stesso, è essa stessa il gioiello. Nella collana di Carrère non può mancare che il filo annoi più dell'egli. E l'egli non può annoiare più del filo. Per questo, le perle di Carrère, Limonov, tutte le vite che lui vampirizza, Philippe K. Dick, Jean-Claude Romain nell'avversario, San Paolo nel regno, la fidanzata in Facciamo un gioco, il nonno, la madre e la bisnonna in romanzo russo. Tutti queste perle, quando iniziano ad annoiare nel testo, quando parla troppo di loro, quando diventano morbose, lui inserisce se stesso. E quindi cambia non solo veduta del personaggio, ma cambia angolatura della visione. Se questo è un oggetto da osservare, sviscerare, questo è un oggetto da sputtanare. Grazie al wireismo del filo, il lettore ha una sinuosità di seduzione, cioè è sedotto. E ha due marce. Conosce attraverso le perle e si riconosce attraverso l'umanità del filo. Dunque, filo e perle producono una questione fondamentale, che è la quarta persona singolare, ma è anche l'umanizzazione del testo. Altrimenti avremmo solamente un récit, un saggio, oppure un docu-saggio, oppure qualcosa di forma ibrida. Carrère invece ci tiene moltissimo a dire, a differenza di Wikipedia, che i suoi libri sono romanzi, non sono récit. I romanzi che mettono in Wikipedia sono semplicemente La settimana bianca, che è un romanzo puro e altre questioni. Perché vi ho raccontato di come sono entrato in contatto con Emmanuel Carrère. Perché vi ha dimostrato e mi dimostra come il filo, vieni in casa a un ragazzino di 29 anni, diventa importantissimo rispetto alla perla. Avrei già un'intervista tra due giorni con accordi. Quella manomissione, quella che lui chiama infrazione del reale, o effrazione del reale, ancora meglio, è per lui fondamentale per produrre trazione nella realtà. Cioè per invalidare le regole ortodosse della realtà letteraria e quantistica, in sostanza. Ovvero non tra noi. Facendomi venire su, lui manomette dell'ordine, esattamente come tutti i suoi libri, sono manomessi in ordine dalla sua presenza all'interno dei libri. Se voi pensate alla carriera di Carrère, Carrère ha scritto, qui ne ho un po', ed è interessante vedere come uno dei suoi primi libri, non è i baffi, ma è, io lo definisco, io sono vivo, voi siete morti, è la biografia di Philip K. Dick. Ok? La biografia di Philip K. Dick è del 1993. Quindi lui inizia con la perla. Era fissato sul fatto che K. Dick, allora Carrère ha fatto due lavori che non si possono dire nell'arco della sua vita importanti. Uno è il critico cinematografico, non ho mai capito, con tendenze a destra o a sinistra politicamente, si arrabbia se glielo chiedi. Io glielo ho chiesto e sei un po' arrabbiato. La seconda andava in Indonesia, prendeva i costumi e li vendeva in Francia. Lo racconta il Limonov, mi sembra, questo pezzo. Quindi ha fatto queste due cose, esattamente come Sandro Baricco vendeva i biscotti. Forse questo non lo dovevo dire, però insomma siamo tutti in prima persona singolare. Ed è molto importante questo perché vi fa capire come è uno scrittore che è riuscito a, prima di tutto, a nascere in una famiglia altamente borghese intellettuale. La madre era, è morta da poco, membro dell'Accadémie francese, segretaria. In secondo luogo lui si è dovuto togliere di lì, rimanere nel contesto culturale perché lui era nato per fare quella questione e ha iniziato a lavorare sulle perle. Quindi su Philip K. Dick, che era una delle sue passioni giovanili per il cinema e per la fantascienza. Però il vero, poi ha scritto Buffy, che è sempre una questione legata al cinema, ma la vera Mosca Bianca di Carrère è del 1995 ed è la Settimana Bianca, che è un libro della Madonna in cui si racconta come farà poi Shyamalaya in Sesto Senso e The Village o The Others, cioè con il ribaltamento della prospettiva, l'alienazione di un ragazzino che va alla Settimana Bianca e si porta dietro le violenze allusive che non può dire a nessuno, come fa ad esprimerlo attraverso le nursi notturne, cioè si pisce addosso. Carrère prende questa questione e la sviluppa in questione in terza persona singolare, anche se ha delle punte di prima, ma senza mai mettersi dentro. Romanzo puro, incredibile. Carrère del 57, questo libro esce nel 95, quindi a circa 40 anni, meno. Sembra sia fissato lì. Poi succede qualcosa, come è successo a Starnone, che ha detto che scriverà solo in prima persona singolare, conosce Jean-Claude Romand, cioè nel momento in cui lui sta scrivendo, vite che io sono vivo, voi siete, scusate, la biografia di Philippe K. Dick, lui conosce Jean-Claude Romand e esattamente l'incipit dell'avversario è la mattina di sabato 9 gennaio 1993, mentre Jean-Claude Romand uccideva sua moglie e i suoi bambini. Io ero una riunione all'asilo di Gabriel, il mio figlio maggiore, insieme a tutta la famiglia. Gabriel aveva 5 anni, la stessa età di Antoine Romand. Più tardi siamo andati a pranzo dai miei genitori e Romand dai suoi. Dopo mangiata ho ucciso anche loro. Ho trascorso da solo nel mio studio il pomeriggio del sabato e la domenica, generalmente dedicati alla vita familiare, perché stavo finendo un libro del quale lavoravo da un anno, la biografia dello scrittore di fantascienza Philippe K. Dick. Quindi lui fa entrare la vecchia vita nella nuova, perché sa che dall'avversario non tornerà più indietro. È la storia, lo sapete forse, di un assassino e Carrère ha iniziato a frequentarlo andando in carcere, gli è costato 7 anni di depressione a Carrère questo libro e 12 scatoloni che ha sempre tenuto nel garage di Rue de Petit Hotel nell'attesa che Romand prima o poi venisse scarcerato, cosa che è avvenuto due anni fa e lui ha restituito i scatoloni direttamente all'assassino. Gli ho chiesto se avesse paura di rincontrare Romand e Carrère ha detto per niente padutù. Tutta una cosa già assorbita. La cosa che gli era rimasta era però il fatto che dovesse mischiare le perle, Jean-Claude Romand, l'assassino, la finzione che lui aveva messo sopra, è il filo, se stesso, se stesso, depresso o in fase depressiva, con i fantasmi della Russia e con la paura che la sua famiglia potesse essere disgregata allo stesso modo di Jean-Claude Romand. Da quel momento lì Carrère è Emmanuel Carrère. Prima persona singolare, terza persona singolare, quarta persona singolare. Non è un caso che divennero commissionate degli articoli, uno di questi fu l'usage du monde, dove lui finge di comunicare con la sua fidanzata di allora che è davvero la fidanzata di allora e le chiede di prendere le monde prima di salire sul treno che davvero deve prendere e di aprire a pagina 7 il giornale perché c'è davvero un suo racconto in cui le chiede di fare un gioco, che è un gioco erotico, davanti allo scompartimento, nello scompartimento del treno dov'è, non curante che anche altre persone possano leggere le monde in quel treno e quindi guardarla fare il gioco davanti a tutti che Carrère le ha proposto. Facciamo un gioco, costa Carrère la relazione con la ragazza. Le chiedo, in una delle altre interviste, di farmi vedere la foto della ragazza. Mi interessava vedere quanto fosse carina. Lui fa, certo te la vado a prendere. Andato di là, preso l'album, ci ha messo un po' a rovistare, me l'ha fatta, gli ho detto, è carina, vi sentite ancora? Padutù, per niente. Non c'è perla che lui non possa mettere sull'altare del sacrificio. Quindi le perle si distinguono in due modalità di Carrère. Le vittime e i protagonisti. Le vittime sono gli oggetti vampirizzati che servono lui per arrivare a lui. I protagonisti sono gli oggetti sviscerati che servono lui per arrivare al mondo. La differenza è egoistica, narcisistica, istrionica. Carrère lavora per istrionismo o per disinnesco dell'istrionismo. Carrère Romain, l'assassino, è protagonista. Limonov è protagonista. In vite che non sono la mia, la moglie, la sorella della moglie, il giudice, sono vittime. Infatti il titolo è vite che non sono la mia, ovvero vite che servono a me per dire qualcosa di me. Vite che non sono la mia è il romanzo con maggiore tenerezza e pietas di Carrère sui protagonisti o su se stesso? Domanda. Su se stesso. Per arrivare a quella pieta su se stessa deve per forza mettere la pietas sui protagonisti che sono le vittime. Quindi c'è un gioco molto strano in quel libro lì di tenerezza su tenerezza ma perché serve a lui la tenerezza. Ed è un libro estremamente caldo, commovente, che parla di morte, che parla di uno tsunami dove lui è con la moglie, dove lui sta parlando con la moglie la sera prima di separarsi per arrivare a un certo punto a una crisi matrimoniale che coinvolge le crisi delle morti, che coinvolge le crisi delle assenze, che coinvolge la crisi delle sottrazioni di tutta la vita. È un libro meraviglioso ed è il libro che lui preferisce tra tutti i suoi libri ed è un libro che ha una potenza di femminile che Carrère ha messo pochissime altre volte nei suoi romanzi. Io vivo voi siete morti è una biografia dura, scherzosa e precisissima di Philip K. Dick. La settimana bianca è un libro terribile e meraviglioso rispetto a un'infanzia violata. L'avversario è la comparsa della quarta persona singolare ed è del 2000 di Carrère. Costerà sette anni di depressione a Carrère. Questo non ve lo dimenticate perché in quei sette anni sono anche il buio con cui lui inizierà a scavare nella propria vita. Infatti fa facciamo un gioco dove perde la fidanzata e arriva un romanzo russo che è un libro dedicato alle proprie radici. Carrère è ossessionato dalla Russia poiché un po' del sangue lui parla russo e viene da lì. Limonov è quella parte che lui di dissidente che voleva in qualche modo avere per prendersi la Russia e un romanzo russo che è il romanzo secondo me più non è noiosa la parola più personale per sé ha comunque una funzione tra sé che va in Russia e nonna e madre che sono le perle in quel caso. Quel romanzo costa tre anni di non parlata tra Emanuele e la madre. Non si parlano per quel romanzo. Carrère fa leggere i libri alle persone che sono interessate. Però molto spesso li cambia se loro non vogliono. Altre volte tira dritto. È stato costretto in yoga a cambiarlo per la moglie all'ultimo perché c'erano motivi legali. Nonostante questo ha ottenuto alcuni pezzi che hanno rovinato. Ma siamo a vite che non sono la mia e siamo soprattutto prima a un romanzo russo. Che è un romanzo che in Italia avevano tradotto con la vita come un romanzo russo e poi è diventato semplicemente in Adelphi un romanzo russo. Ricordatevi che Carrère fin quando è stato in Enaudi non ha venduto niente in Italia. È passato in Limonov. Con Limonov è passato in Adelphi, è venduto molto. Ma perché forse era un libro che è esattamente la perfetta esecuzione della quarta persona singolare. Limonov, le perle e i fili si vedono nella stessa maniera. In vite che non sono la mia secondo me si vedono più le perle ancora. In l'avversario si vedono ancora più le perle. Lui era molto contento quel giorno che mi raccontava di Limonov perché sapeva che il filo non disturbava le perle e che le perle non avrebbero mai disturbato il filo. È un capolavoro, è il suo grande capolavoro, che ha portato Carrère in giro per tutto il mondo, dall'America alla Spagna. Carrère ha grande successo in Francia, in Italia, in Spagna e basta. Mi disse forse dovrei trasferirmi qua perché in Francia è uno scrittore lettissimo ma è controverso per l'uso della prima persona singolare che è vista come pornografia e uscenità dell'io rispetto a una tradizione, pensate a Zola e a tutti gli altri, che descrivevano naturalisticamente il mondo. Lui mette una prima persona singolare che ha nella prima persona singolare forse il suo obiettivo. Ernaud, Annie Ernaud, riusciva a mettere la prima persona singolare per avere la lingua come obiettivo. Ernaud non è mai andato al Goncourt, non l'ha mai vinto, ha vinto il Renaud, ma al Goncourt non vogliono le prime persone singolare così grosse. Carrère non è mai andato al Goncourt per lo stesso motivo, ha vinto il Renaud, che è il premio come il campiello. Questo è un motivo molto importante. Gli ho chiesto se davvero non gli interessasse vincere il Goncourt e lui ha alzato le spalle come dire se verrà, verrà, se non verrà, non importa. Comunque, questo lo aggiungo io, lui è Emmanuel Carrère. Arriva Limono, che scuote l'Europa, il filo e le perle sono simmetriche e poi succede qualcosa. Quel qualcosa è legato alla depressione che lui aveva avuto dopo l'avversario, quindi a partire dal 2001 fino al 2008. In quegli anni lì aveva iniziato un libro che si chiamava Il Regno, ma che non riusciva a finire. Il Regno è un libro molto corposo che non riusciva a finire, per cui nel frattempo, per tecnica sua, lui iniziava Il Regno, continuava Il Regno e iniziava un altro libro, perché l'altro libro lo riparava dal fallimento del Regno. Quindi ha sempre tenuto la tecnica dei due libri. Quando un libro finiva, lui doveva avere l'altro. Se un libro si bloccava, lui aveva sempre l'altro che andava avanti. E mi diceva che quella era parte della sua officina letteraria. Come parte della sua officina letteraria, la sentinella della virgola. Lui capisce che un libro è finito quando toglie una virgola e alla rilettura successiva gli viene da rimetterla e poi quella dopo la toglie e poi gli viene da rimetterla. Allora capisce che sta cincischiando e che il libro è concluso. È la virgola che dice a Carrère il mio libro è finito, non è l'editore ovviamente. Virgole, madri con cui litiga, fidanzate che perde, assassini i cui scatoloni sono nello scantinato, russi dentro e fuori le vene, i tre piatti principali di... ogni tanto vi dico delle curiosità. Le tre cose che gli piace, ho fatto a Carrère, le tre domande di Umberto Eco. Gli dissi dimmi un po' dove vorresti andare con budget illimitato e meta illimitata 15 giorni da solo, assolutamente. Era una domanda di Umberto Eco che ti faceva spesso. Lui mi disse in Indonesia con un motorino a noleggio. Bevanda preferita? Acqua naturale. Ecco, concludeva la terza domanda. Cibo preferito da mangiare in compagnia? Zuppa di lenticchie. Ho detto che schifo cazzo, ma puoi scegliere qualsiasi cosa? La zuppa di lenticchie. Poi lo vedi è, ha un fisico a 60 anni yogico, io mi guardo, sono romagnolo e dico, ah si dovrei mangiare anche io zuppa di lenticchie, acqua. Invece io carico. Questo è Carrère. Quindi c'è una forma anche di, chiamiamolo, saggio, meditativo, orientale che entra in lui. È anche una forza nervosa che lo porta spesso ad andare con l'amico Hervé a passeggiare in Svizzera, che è uno dei suoi grandi hobby, oppure andare qualche tempo fuori oltre a girare cinema. Lui è anche un regista. Della parte di regia non parlerò oggi, perché non la conosco bene. Il regno assorbe la depressione di Carrère. È un libro sulla depressione, è un libro sull'essere bipolare in parte, è un libro su quel giorno di ottobre in cui tentò il suicidio, tentando di impiccarsi. Ma non lo fece, fallì. Non si sa se fallì perché non lo voleva davvero fare o perché per qualche ragione non gli venne. Però lui ha un tentato suicidio nella mente, che l'ha ferito, che lo tiene. Il regno è la discussione attraverso San Paolo di quella che è la redenzione cattolica cristiana attraverso il principio laico di presenza del verbo. San Paolo porta il verbo attraverso una forma di fumettismo che è addosso. È un avventuriero, è eroico, è brutto e fa la fine che fa, ma porta una religione. Questo interessava Carrère, però sapete che questo non può interessare basta. È una perla. Qual è il filo? La depressione che lui stesso ha. Purtroppo il libro ha assorbito un'altalenanza di nero con bianco. Le prime cento pagine sono di solo filo praticamente, poi arrivano grandi perle. Quindi se dovessimo ricalibrare come il regno è così. Il filo è troppo sottile e improvvisamente qua diventa enorme, le perle sono troppo grosse e poi improvvisamente diventano piccoline. Quindi c'è una distonia nel gioiello. Questo lo rende, se vogliamo, espressionista, ma se vogliamo ci fa capire anche che non c'è l'armonia che lui ha sempre voluto, il limono. Perché? Perché la parte psichiatrica e psichica pesa più della parte psichiatrica e psichica che entra nel personaggio di San Paolo. È un libro che oscilla in sinusoide. Alcune parti giù sono troppo giù, altre sono troppo su. Lo dice lui stesso. È molto affezionato perché rappresenta psichicamente quello che per lui è. È il 2014, quindi è un libro però che ha gestazione post avversario. Non è un caso che l'avversario raccontasse della menzogna di un protagonista che nasconde e dice menzogna alla propria famiglia per poi finirla e non è un caso che San Paolo abbia conversioni su conversioni e che Carrera abbia conversioni su conversione. Che cos'è una conversione religiosa? È una menzogna riprodotta in verità. Questo movimento psichico non è portato fino alla fine perché è un libro ferito a morte per citare la capria e per cui non può essere, chiamiamolo, curato da Carrera stesso. Qui la prima persona inizia a diventare grossa. I fili dei gioielli di Carrera da, se vogliamo, il regno iniziano a diventare pesanti e le perle fanno fatica a entrare dentro. Perché? Perché l'impatto del dolore di Carrera entra violentemente nei libri senza più essere funzionale al racconto della storia. E allora arriviamo a un libro che in Francia ha diviso tantissimo. Io sono da una parte rispetto a un'altra che è yoga. Racconta la sua esperienza spirituale attraverso lo yoga ma soprattutto racconta quelle che sono le sue esperienze psichiatriche negli ospedali francesi attraverso l'elettro show. Questo libro ha portato molta polemica poiché ha dovuto togliere Carrera delle parti perché facendolo leggere alla ex moglie prima che uscissera gli ha detto attraverso avvocati che doveva togliere tutte le parti di verità su di lei purtroppo sono il filo giusto. Quindi ha dovuto ricalibrare un filo che non era giusto e l'ha caricato tanto e l'ha fatto diventare molto grosso rispetto a una questione nuovissima. Le perle di yoga non sono i personaggi, è Carrera stesso. Quindi yoga è per la prima volta nel regno già aveva rischiato sia filo che perla. Questo ha portato a un'ingordigia Dio che ha disfatto la quarta persona singolare e ha mantenuto però la seduzione che Carrera salva sempre attraverso la lingua. La lingua di Carrera è metricamente scomposta volutamente. Vuol dire che voi non vi accorgete di come va giù. Non è un caso che sia l'acqua la bevanda preferita di Carrera perché come la sua prosa se voi iniziate un suo libro vi tirate sulla testa 30 pagine, 40 forse la prima volta, perché la sua lingua è fatta di due subordinate o tre e poi improvvisamente da una frase breve e poi ricomincia e gli incisi delle virgole non sono semplicemente degli incisi ma sono delle intromissioni tra il filo e la perla. Vediamo se riesco a fare un esempio concreto di questo. L'incipit di vite che non sono la mia lo è. La notte prima dell'onda ovvero lui si riferisce lo tsunami ricordo che io ed Elen abbiamo parlato di separarci. La notte prima dell'onda è l'oggetto, la perla. Ricordo che io ed Elen abbiamo parlato di separarci è il filo. Non era complicato, due punti. Non vivevamo sotto lo stesso tetto, non avevamo figli insieme, potevamo addirittura pensare di rimanere amici. Eppure era triste. La memoria andava un'altra notte, poco dopo il nostro incontro, interamente trascorsa a ripeterci che ci eravamo trovati, che avremmo vissuto insieme per il resto dei nostri giorni, che saremmo invecchiati insieme e perfino che avremmo avuto una bambina. Lo vedete la sopopera, no? In seguito l'abbiamo avuta, nel momento in cui scrivo speriamo ancora di invecchiare insieme e ci piace pensare che fin dall'inizio avevamo capito tutto. Da quell'inizio però era trascorso un anno complicato, caotico, e quello che ci appariva certo nell'autunno del 2003, nell'incanto del colpo di fulmine, quello che ci appare certo, comunque auspicabile, cinque anni più tardi, non ci appariva più per niente certo né auspicabile, in quella notte di Natale del 2004, nel nostro bungalow dell'hotel Evalanca. Siamo ubriachi. Abbiamo vissuto una storia d'amore, che forse andava male, invece è andata bene. All'inizio c'è un problema di un'onda e adesso siamo tornati dove l'onda c'è. Carrère ci scopa, è in dubbio. È il più grande dragor letterario che esiste, il più grande romantico. Ti butta di qua e ti butta di là. Sembra di parlare con Alfred Bogart, ma è semplice. Le virgole sono il suo segreto, perché attraverso le virgole lui apre le sacche motive. Yoga è tutto così. Quindi tu lo leggi, ma tu leggi un'ipertensione dell'io che anche se non va più nell'oggetto, nell'onda, nello tsunami, nelle vite degli altri, ma torna su di sé, ti porta a dire che Carrère è Carrère e che quindi la fase di lingua è assolutamente attiva ed è un libro da leggere. Allora, quali sono i principi carrariani per cui abbiamo davanti uno dei grandi scrittori del nostro secolo? Gli oggetti che sceglie in qualche modo sono tutte sentinelle dei nostri tempi e i fili che riesce a inserire dentro. La moglie si è divorziato, ovviamente. La figlia no, poco, è citata appena, ogni tanto, i figli poco, ogni tanto. La madre, quindi la famiglia di origine, qualche amico e le persone che incontra durante. Tranne in un caso, dove la perla è tornata a essere sufficiente, come La settimana bianca, come Io vivo e voi siete morti, come i suoi film, che è V13, che è dedicato al Bataclan. Quando Carrère ha iniziato a seguire il processo e l'ha seguito giorno dopo giorno, una delle questioni importanti di Carrère è come mangia? Velocissimo, velocissimo. Come sta negli ascensori? Si cira dalla parte del muro, quindi se voi prendete un ascensore con lui, gli vedete la nuca. E come lavora ai libri? Tutti i giorni, otto, nove ore al giorno, e quando deve studiare per qualcosa che fa, lo fa in maniera talmente ossessiva che i risultati che ottiene non sono dovuti al pedigree che lui ha di natura, ma sono tutti dovuti all'ossessione del lavoro che ha. Bataclan ha seguito tutte le udienze, non andava in vacanza, non ha fatto niente per andare sempre lì, ed è diventato talmente permeato e permeante all'interno del processo che lo salutavano tutti, compresi i giudici, compresi i secondini, tutti, compresi le famiglie delle vittime. E grazie a quella prima persona singolare di confidenza che aveva raggiunto è riuscito a intervistare chi nessuno era riuscito a intervistare. Quindi la prima persona singolare di Carrè, proprio sua, che è, va bene piccolo Missiroli, vini pure in casa da me, anche se non potresti, è, lei chi è come vittima? Questo suo modo di effrazionare la realtà è anche il modo di poter entrare nella letteratura quando ancora non scrivi la letteratura. È un uomo di letteratura nella vita. V13 è il racconto di quei giorni del Bataclan, di quello che è stato dopo, delle sue vittime, ma perché lui non c'è? Come ha fatto a rinunciare al filo? Perché ha rinunciato al filo? Lui che aveva fatto ingordigia di fili grossi per il regno e per yoga. Uno, per quello lì, ed è il motivo per cui aveva fatto indigestione e non ne poteva più. E due, perché è riuscito a capire una cosa geniale. Ha sacrificato l'io del filo per avere l'io all'interno del montaggio del libro. Come ha fatto Sergio Leone a fare Cero una volta in America? Come ha fatto Kubrick a fare Eisweishat? Come ha fatto fare Bergman il posto delle fragole? Lavorando sul montaggio e sottraendo la funzione della prima persona singolare. Carrère sa che se rinuncia al filo di cui è nauseato, ha solo una possibilità, che è quella totale e geniale, di lavorare il sé attraverso la percezione che lui ha avuto in quegli anni di tribunale, in quei mesi di tribunale. Dunque, questo è un principio calassiano anche di Roberto Calasso, io non riconosco la visione del tribunale, del processo in linea orizzontale lineare, ma la spacco e la rimonto come io l'ho vista, senza citarmi troppo. Il mio io finisce esattamente in come io ho visto questa visione e questa visione appare più gustosa proprio perché è montata secondo una visione umanizzata e umana dei miei occhi. Non c'è Manuel, ma c'è il suo cervello nell'avere elaborato il trauma che tutti noi abbiamo elaborato. È un salto definitivo nella letteratura carreriana. Carrère è uno che riesce a mimetizzare l'io quando lì è troppo grande in una funzione, in una scatola che lo rende ancora più grande ma non visibile, in questo caso il montaggio. Ho dato un soprannome a Emanuele che è Lernard, la volpe, perché da quando è bambino lui sogna che una volpe gli divori gli intestini. Una volpe piccola, cioè in vite che non sono la mia, torna anche in altri libri e forse quella volpe è l'unica possibilità che lui ha di rimanere sempre sveglio rispetto alla realtà, perché lo fa essere ferito rispetto al se stesso e quindi cosciente che è un filo e lo rende oggetto e oggettivato di quello che è il mondo che li mangia gli intestini. Mangiato e mangiante. Emanuele Carrère. Grazie. Quando abbiamo ballato qua, io, Carrère, a una festa, se lo ricordo in molti, eravamo tutti molto allegri. Era appena uscito Limonov e quindi sono contento di averlo riportato qua in questa maniera. Ci sono domande da parte del pubblico o domande da parte, non so, si dice da casa? Mike Buongiorno. Se ci sono le facciamo e rispondo, se no la chiudiamo qua. Ditemi voi se ne avete. ok? Il prossimo romanzo di Carrère non si sa qual è, non ne ha voluto parlare, sta scrivendo. C'è una domanda? Da Cri. Ciao Marco, buonasera. Ciao. Volevo sapere, in una personalità di questo tipo è molto difficile immaginarsi che cosa possa scrivere, ma in generale che cosa possa diventare. Secondo te c'è, ci sarà uno sviluppo ulteriore o abbiamo visto già in una vita quello che non si vede normalmente in nessuno, in nessuno scrittore nella letteratura. È totalmente imprevedibile, perché non sappiamo che cosa farà dell'esperienza di avere nascosto il filo da qualche parte, non so, potrebbe fare qualcosa su qualsiasi cosa, se lui facesse qualcosa, se mi dicessero, una volta scherzò con me e disse sto facendo un libro su una geisha in Giappone. Io ci ho creduto, ho detto, madonna, chissà, come la fa? Lui che va a farsi il bagno, lei che lo massaggia, e poi quando siamo visti mi ha fatto no geisha no party Marco, come dire, sei un boccalone, e stavo lavorando invece su Bataclan, capito? Quindi non so che cosa potremmo aspettarci. Spero che vi va lungo, perché è un incessante lavoratore, quindi qualcosa ci darà. È geloso di Wellbeck, questo me lo disse, però al matrimonio di Wellbeck hanno cantato insieme il karaoke. Piccola cosa. Potete portare così si sente. Grazie Marco. C'è qualcuno secondo te in Italia che ha accolto la sua lezione in modo particolare? In questo momento tutti, tutti fanno prima persona pornografica, nel senso che l'autofiction è proprio esplosa. Però, secondo me, chi ha tenuto quel senso di verità nel libro con la prima persona singolare è stato Francesco Piccolo, per quanto riguarda il filo. In Piccolo però non ci sono le perle, secondo me. Sono piccole. E quindi la differenza è quella lì. Però quella confidenza ce l'ha avuta lui. Starnone, ad esempio, invece usa la prima persona singolare per raccontare perle. Storie d'altri. Altri. Quindi è una prima persona di fiction. Qui si parla di... Di che cosa si parla di Carrère? Di verità? Di autofinzione? Di che cosa? Non lo sappiamo. Per cui Carrère è Carrère. Non ne trovo uno. Chi è andato molto vicino al suo filo in Europa è Totskaruk, su alcune cose, ed è, secondo me, Rachel Kask. Reso conto, soprattutto, per quanto riguarda il filo. Ma non trovo un'alternanza, a meno che non sia un reportage. Grazie. Abbiamo un paio di domande da casa. Chiedono, l'incontro con Carrère ha cambiato qualcosa nella tua vita? Se sì, ha adottato alcuni dei suoi valori? Allora, nella mia vita ha cambiato il fatto che bisogna usare nelle interviste. E così ho fatto dopo, nel senso che non è che mi presenti in casa delle persone che voglio intervistare, però mi ha fatto capire che c'è un'umanità che si può in qualche modo cavalcare, prendere. E poi io mi sono tenuto lontano dalla prima persona singolare. Cioè, l'ho fatta, ma l'ho fatta per fiction. E quindi ho pensato che siccome la faceva lui così bene, andarla a fare vicino è una cosa molto complessa, insomma. Chiedono anche se, se lo sai, se Carrère ha mai letto i tuoi libri. Sì, li ha letti tutti. In alcune ha mentito che gli era piaciuto, ma non gli erano piaciuti, perché io un po' lo conosco. Ha guardato dall'altra parte, mentre me lo diceva. Però ne ha amati due moltissimo. Ci sono varie foto in cui si vedono dietro, dove lui è fotografato, sono nella sua libreria. Però, insomma, l'abbiamo finita qua. Ne leggo un'ultima. Da quale libro di Carrère consigli di cominciare? E se c'è un ordine particolare con cui consigli di leggere i suoi libri? Sì, c'è un ordine particolare. E postumo, vuol dire post-pubblicazione. Si comincia da l'avversario, si procede con vite che non sono la mia, poi si va a la settimana bianca. E questa qui è la prima parure careriana, dove si vede uno scrittore che racconta lì, e poi si torna indietro sull'egli e poi si può andare dove si vuole. Però l'importante è fare questa sequenza qui. Dopo la settimana bianca io consiglio, sembrano quelli dei ristoranti, consiglio il limono per capire poi com'è il sunto finale. Grazie. Grazie. Non ci sono altre domande? È stata molto bella. No, c'è? Di qua. Ciao. Ciao. Allora, io ho una domanda per la quale non so se esiste una risposta. Cioè, come calcolo o come definisco i karate e il valore del gioiello di Karer, della sua collana, è un equilibrio tra il filo e la grandezza delle perle? O è più proprio qualcosa che riguarda l'assenza di un filo quanto la presenza delle perle? È una domanda molto intelligente. Credo che, per quanto vedo io questa cosa, sia qualità della perla, qualità del filo, grandezza della perla, grandezza del filo, incastro tra i due. Quindi sono cinque variabili. Ok, quindi sia un concetto di proporzionalità, quanto uno di qualità, più che di grandezza, appunto. Il cosa raccontiamo, del sé e dell'oggetto, il come lo racconti, quindi l'armonia tra il filo e la perla, e il come lo stai raccontando, quindi la lingua. Quindi è un fattore complessissimo. Infatti tentare di fare Karer è come tentare di fare Faulkner. Sono due scrittori che uno vorrebbe imitare, ma appena ci metti le mani uguali è difficile, insomma. Grazie. Grazie a te. Non so se ci sono altre domande. Merci, grazie. 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 Grazie.